C'è anche Nathalie Tocci, direttrice istituto affari internazionali, alla quale farei vedere subito questo minutino della tv russa, perché diciamo le minacce nei nostri confronti ci sono sempre. E quindi vediamo cosa ci dicono questa volta, confronti dell'Occidente. Olaf Scholz ha annunciato che loro non possono accettare i termini dettati dalla federazione russa. Chi diavolo sei, bastardo? Pensi che accetteremo i tuoi termini? Prova a indovinare. Se non accetterai i nostri termini, lo faremo con la forza. Scholz, dovresti saperlo. Ragazzi, se ci costringete a usare le armi nucleari, noi non avremo altra possibilità. Quando arriverà lì, bastardi, dubito che gli Stati Uniti attaccheranno la Russia. Non muoveranno un muscolo. Diciamo che ieri c'è stata questa telefonata tra Draghi e Putin. Oggi anche il New York Times concretizza questa diversità di vedute degli Stati Uniti e dell'Europa su come dovrebbe, sugli auspici riguardo alla guerra in Russia. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti vorrebbero, diciamo, immarginare il più possibile la Russia tagliandolo fuori dall'economia mondiale e invece in Europa si avverte la preoccupazione di isolare troppo, del pericolo di un Putin troppo isolato. Tocci, è così? Ma in realtà non credo che ci sia una grande differenza tra Stati Uniti e Europa. Allora, faccio un passo indietro. Se questo fosse un conflitto tra gli Stati Uniti e la Cina, perché non so, la Cina invade Taiwan, allora effettivamente ci si può chiedere se la difesa degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan, ipoteticamente, è perché realmente interessa Taiwan o perché in realtà questo non è semplicemente una guerra per procura in quella che è una competizione per l'egemonia globale. Stiamo parlando in questo caso di Russia, ossia stiamo parlando di un paese di 140 milioni di persone e sempre meno, un paese che ha il PIL più basso della Spagna, quindi immaginare che questa sia una competizione tra Stati Uniti e Russia, in cui appunto gli Stati Uniti vogliono indebolire la Russia per una sorta di appunto scontro per l'egemonia globale, è francamente piuttosto farneticante. Quindi cos'è che c'è dietro questa posizione degli Stati Uniti? Qualcosa che non è poi così diverso da quello che vogliono gli europei, anzi sostanzialmente è la stessa cosa. Cioè quando gli Stati Uniti parlano, ad esempio, dell'indebolimento della Russia, è perché hanno la convinzione, e purtroppo è una convinzione che tutte le prove empiriche ci dicono questo, che la Russia non cambia quello che è il suo disegno, cambia semplicemente la sua abilità di portarla avanti e che quindi dal momento in cui la volontà politica non cambia, perché stiamo parlando di un progetto ideologico, può solamente cambiare la capacità di portare avanti appunto un progetto e che quindi una pace possibile è una pace in cui la Russia non riesce a realizzare i suoi obiettivi. Ed è esattamente quello che pensano anche gli europei. Quindi in realtà dietro a toni diversi, che poi spesso semplicemente rispondono a sensibilità di politica interna diversa, c'è in realtà un'analisi dei fatti che dalle due sponde dell'Atlantico francamente non è così differente. Grazie a tutti.